Anna, cosa vediamo adesso? Vediamo? Il formicaio. Fammelo vedere. Eccole, fammele vedere Anna. Qua vediamo un formicaio. Guarda. Che tipo di formica è? Abbastanza grande questa. Guarda, guarda. Anche queste si stanno mettendo a riparo perché ti vedono a te. Vedi come vanno via? Entrano lei. Poi ce ne sono tantissimi di questi formicacci. Guarda questa formica addirittura come è grande. Dove? Fammi vedere. Dove? Questo è il tipo di formica. Guarda. Eh. È una bella formica questa. Guarda che tipo di formica. Ma pungica? È una femmina. È una femmina. Si può vedere da... È una femmina? Da che l'ho vista? Dalle zampe che sono più lunghe. Chi te l'ha detto? L'ho vista su Wikipedia. E sul libro di scienze. Vabbè, mettila vicino alla Tandres. Ecco qua. E qui ci stiamo avvicinando alla Tano. Quando si sentono disturbati cosa fanno? Si mettono a riparo. Vedi? Stanno entrando. Uno per uno. Vedete queste... Loro... Si stanno... Si stanno... Anzi, sono... Stanno per... Cosa ci vuole dire, Anna? Tollire... Cioè... Guarda, questa è rimasta intrappolata. Sono usciti da letane per il letargo. Per andarsi a trovare da mangiare. Adesso si stanno... Stanno cercando il cibo. Infatti, come vedete, ce l'hanno... Lo stanno caricando e portandolo sicuramente alla formica regina. Guarda quant'è grande qui sta. Ah, ce l'hanno una grande, eccola. Sicuramente la formica regina è grande... circa... due centimetri. Pure di più di due centimetri. Vediamo se ci mettiamo una foglia cosa fanno sopra la Tana. No, non la distruggere, la Tana. Facciamo così. Vediamo cosa succede. Si vanno a ficcare. Uguale. Guardate questa formica. Va bene, dai, lasciagli liberi. Consciam allora un altro pochino. Piccolo piccolo. Vediamo dentro... Non tanto grande, però. Ecco qua. Dentro, ecco. Basta così. Fammi vedere. Come guardiamo. Ci stanno molte direzioni. Guarda qui. Essendo piccole si... hai aperto delle piccole caverne. Lo vedi come si vanno... intrupolare. Basta, basta. Non lo rompere. Sì, sì, no, non lo rompo. Sto cercando di farvi vedere come... dentro... è pieno di formiche. Va bene, così. Qua sotto ce ne stanno tante. Come se lo riuscite a vedere. Ecco. Ci sta molto cibo nascosto, eh. Poi queste formiche sotto andranno pure di là. E' scavato tantissimo perché... gli anni passando... Ci sarà una caverna da qui che poi va a finire dall'altra parte. Guarda. Passando gli anni... Avranno scavato tutto quanto. Guardate qui ce ne è... Sono... Eccolo qua. Cerco di farvi vedere se ci sono le formiche. Ce n'è un'altra ancora, vedi? Ecco qua. Eccole. Ci sono le formiche. Sono collegati. Due formicagli collegati. Non si vede bene perché... Ecco. Se si dovrebbe vedere è meglio. Se si dovesse. Fa vedere, filma, filma. Eccole, eccole. Guardate che formiche. Queste l'abbiamo disturbata adesso. Guardate. Guardate. Che succede. Fammi vedere chi entra e chi esce. Da questa casa. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa sta succedendo. Certo, gli stiamo un po' rompendo le scatole a queste formiche. Era un buco piccolo e è diventato uno grande. Vabbè, con questa immagine vi salutiamo. Ciao, ciao. 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 Grazie.